Era un cucciolo d'uomo. Se avessi saputo quanto profondamente sarei stato coinvolto, avrei obbedito al mio istinto e mi sarei allontanato. Poi mi venne in mente. Sapevo che una famiglia di lupi viveva bene con una cucciolata. Sicuramente si sarebbero presi cura del cucciolo d'uomo. Oh, guardate, cuccioli. Bagheera ci ha portato un cestino da picnic con il pranzo. Sì! Cosa? No! Che cosa ha fatto? Sei incredibile. Hanno mangiato il cucciolo d'uomo. Hai dato un bambino ad un branco di lupi affamati. Cosa pensavi sarebbe successo? Avrebbero dovuto allevarlo, come Tarzan. Che ne so. Di certo non mangiarlo. Questa è la giungla, baby. Sopravvive solo il più forte. Ehi, Bagheera. Ho saputo che hai ucciso quel cucciolo d'uomo che tanto odiavo. Grazie per l'aiuto. Non ti ho aiutato. Sono stati i lupi. Che cosa succede? Ho sentito parlare di pantere che uccidono bambini. Non ho fatto nulla del genere. Sono stati i lupi. Io non voglio essere come te. Ehm... Impazzirà sicuramente. Sono carnivori i lupi, sono carnivori, dimenticatevi il cucciolo d'uomo. E già! E in fondo! Sono carnivori i lupi, sono carnivori, e il cerchio della vita è questo qua. Sogna me, solo me... Fai il solletico! La tua voce suona familiare. Ehi, come la tua! Beh, temo che dovrò mangiarti adesso. Oh, rabbia! Ehi, come la tua!